I commercianti di Saione continuano a essere il vero presidio per il decoro e per lo sviluppo del quartiere e si sono voluti ritrovare a cena per parlare del presente e del futuro di questa zona di Arezzo che nel frattempo ha ottenuto un'importante conquista, quella di un vigile dedicato al presidio di Saione. Saione è un quartiere bellissimo e stasera lo stiamo dimostrando dove tantissimi commercianti sono insieme. Siamo insieme perché noi siamo il vero cuore pulsante di questo quartiere, quelli che investono soldi, quelli che sono decenni che hanno anche delle attività commerciali e le portano avanti in quello che è un centro commerciale naturale perché Saione è un centro commerciale naturale e stasera è una serata bellissima perché siamo tutti insieme con un unico obiettivo, quello di resistere e dire che noi siamo noi, siamo noi, il vero Saione.